Ben trovati per questa nuova puntata di Gaia. Oggi ci troviamo vicino al fiume Po, in zona Gerre dei Caprioli, in provincia di Cremona, nella zona chiamata del Mento. Oggi vogliamo capire che cos'è la rinaturazione del Po, cosa sono questi progetti e cosa prevedono. Siamo con Marco Pezzoni di Stati Generali, Clima, Ambiente e Salute. In che contesto, Marco, si pongono questi progetti di rinaturazione del Po e a livello storico che riflessioni sono state fatte negli ultimi 50 anni? C'è stato un profondo ripensamento sull'importanza dei fiumi, sul ruolo dei fiumi, sulla importanza dell'acqua dolce, perché sempre di più a livello internazionale, ma ovviamente in Europa e in Italia il fattore del cambiamento climatico ha fatto appunto ripensare la questione di quanto sia preziosa l'acqua, l'acqua e l'uso plurimo delle acque e quanto siano tornati importanti i fiumi. I fiumi sono i principali vettori dell'acqua, dell'acqua dolce, del ciclo dell'acqua e quindi è chiaro che i fiumi, che sono da sempre, è una specie di arteria, di vena, di tutta quella che è la società complessa, che caratterizza ovviamente soprattutto le città e soprattutto la situazione di grande sviluppo che c'è stato urbano, soprattutto in Europa, sono tornati ad essere al centro di quello che è il progetto europeo che si chiama Green New Deal, cioè noi dobbiamo affrontare i cambiamenti climatici con una mentalità nuova. Questo ci viene da tutti gli scienziati del mondo, ci viene dall'IPCC, che è l'ente dell'ONU che studia dal 1992 i cambiamenti climatici e i fiumi sono qualcosa di veramente importante. Noi li abbiamo sempre considerati, tu parlavi giustamente degli ultimi 50 anni, come qualcosa da sfruttare, come qualcosa che era unicamente visto in chiave economica, in chiave di sfruttamento dell'uso plurimo delle acque, in chiave decisiva, sia per gli usi civili, le nostre abitazioni, le nostre città usano l'acqua, l'acqua depurata, ma che viene appunto dalle fonti come i fiumi, come tutto quello che sono le riserve d'acqua che sono depositate negli anni appunto nel terreno e quindi noi siamo abituati a pensarli in termini esclusivamente utilitaristici. Anche la visione, diciamo così, del valore turistico dei fiumi, ovviamente oggi deve essere ripensata nel contesto dei cambiamenti climatici e allora il New Deal europeo ha, attenzione, con soldi di tutti gli Stati europei deciso di avviare quello che si chiamano progetti PNRR, cioè i piani che ogni Stato che fa parte dei 27 Stati dell'Unione Europea ha contributi in gran parte di tutta l'Unione Europea per affrontare progetti che in qualche modo mitighino anche e adattino la nostra società a convivere o meglio a limitare i cambiamenti climatici e l'aumento della temperatura. In questo contesto nasce il PNRR, i piani di naturazione, di resilienza e di ripristino delle nostre economie e all'interno di questi progetti, attenzione, l'unico che davvero ha a che fare con un nuovo equilibrio con la natura, sono i progetti di rinaturazione del Po. A proposito del Po, Marco, lei mi diceva che è l'ecosistema più importante d'Italia ed è per questo che va salvaguardato. Assolutamente, è il più importante perché è il più complesso, è il più vasto. Pensate che tutta la Valle del Po, non solo la pianura padana ma dalle Alpi agli Appennini, tutto questo è stato costruito in milioni e milioni di anni dal fiume Po. La Valle del Po è quindi la valle più abitata in tutta Italia, quella più antropizzata come si dice e quella anche che ha il maggior numero di insediamenti sia industriali, sia agricoli e sia di allevamenti zootecnici. Per cui è evidente che l'ecosistema è un ecosistema sociale, è un ecosistema economico, è un ecosistema urbano, è anche un ecosistema naturale. Da qui la nuova idea appunto dei progetti di rinaturazione, di ritrovare, se è possibile, ripristinare un equilibrio tra la società, tra l'uomo, tra tutto quello che è stato fatto, in termini anche di progresso positivo dalla società in questi ultimi decenni, ma ritrovare un equilibrio con la natura. E con che cosa? Il fiume Po come liberato da tutto quello che le ha troppo imprigionato. E oggi la politica europea, ma ovviamente suffragata dagli scienziati, da chi studia proprio dal punto di vista idrogeologico, dal punto di vista idraulico i fiumi, riconosce che si è sbagliato in passato a mettere le camicie di forza a cementificare i fiumi, perché con i cambiamenti climatici il fiume diventa ancora più violento nei momenti di piena. E allora bisogna… Siamo a questo proposito che arriviamo bene al pubblico, perché magari ci sono persone che credono che gli argini, la cementificazione serva per motivi di sicurezza, invece ci stai dicendo che in realtà può creare quasi più pericolo, in certi casi almeno. Attenzione, allora un conto sono la capacità giusta di porre in sicurezza i fiumi attraverso gli argini, attraverso gli argini maestri, attraverso gli argini secondari. Questo va sempre mantenuto e sempre monitorato. Altra cosa è invece, oltre a mettere in sicurezza il fiume attraverso gli argini, cementificarlo in modo ancora più stretto per approfondire il pescaggio del fiume e per esempio renderlo più navigabile, come si è fatto in Europa, nel Reno, nel Rodano e oggi si scopre che invece è stato un errore, cioè mettere in sicurezza il fiume con gli argini è sempre giusto, ma bisogna lasciare spazi al fiume, soprattutto nelle aree edemagnali, nelle aree di esondazione possibile perché nei casi di piena il Po liberamente possa espandersi, rallentare il suo corso ed essere quindi meno violento come spesso in passato è stato quando il rigimentato è stato costretto a correre in modo più veloce e quindi la sua esondazione è stata anche più violenta e causato anche vittime. Una cosa che si dimentica è che il Po non è vero che è tranquillo da decenni, ma con una cadenza quasi di ogni 7-10 anni il Po esonda e le previsioni scientifiche che studiano gli andamenti climatici dimostrano che c'è un'oscillazione maggiore tra i momenti di piena che diventeranno sempre più consistenti, ma i momenti anche di polarizzazione e di siccità che diventeranno ancora più forti e ancora più gravi dal punto di vista della disponibilità di acqua. Ecco perché la rinaturazione del Po è un modo anche per cercare di capire l'importanza dell'acqua dolce ma anche l'importanza di poter riservare appunto quest'acqua dolce a un uso equilibrato che deve essere un uso ovviamente a fini civili, a fini agricoli, ma la cui scarsità ci porterà nel prossimo futuro a renderci conto che dobbiamo assolutamente capire che l'acqua è il bene più prezioso, è un bene comune esattamente come l'aria. E l'ultima domanda provocatoria è ma tutto questo, questa meraviglia di complessità ecosistemica, il fiume, le sponde, il verde, tutto quello che c'è e che ha costruito il fiume. Ma di chi è? A chi appartiene? La risposta è di tutti, è di tutti e quindi se è di tutti anche l'idea di sfruttare le aree dei maniali con i pioppi, di sfruttare le aree dei maniali a fini intensivi deve anche per la Costituzione italiana cedere il passo all'uso sociale della proprietà. E se l'uso sociale è che la cosa più importante è rispettare il fiume, la sua possibilità di esondare e soprattutto la ricchezza dell'ecosistema del Po di cui parlerà giustamente chi ha portato avanti a livello nazionale insieme ai vari governi di questi progetti di rinaturazione che è il WWF, ebbene questo ecosistema deve essere salvaguardato e a priorità rispetto agli interessi privati. Ora siamo in compagnia di Bassano Riboni del WWF Cremona, abbiamo appena parlato dei progetti di rinaturazione del Po, che ruolo ha avuto in questo il WWF nel promuoverli? Allora a livello di PNRR si era parlato di 357 milioni di Euro e 56 interventi, recentemente AIPO è uscito con dei comunicati in cui annunciava che a breve verranno attivati 5 progetti, quindi cerchiamo di capire come vi siete mossi come WWF, quali erano i vostri obiettivi, poi chi sono gli interlocutori che metteranno in atto man mano questi progetti. Il WWF nazionale ha avuto il merito e la lucidità di pensare in un momento in cui si iniziava a parlare in Europa di transizione ecologica, a pensare a questo progetto, insieme ad ANEPLA, che è l'Associazione Nazionale Cavatori di Confindustria, insieme pensare una moltitudine di progetti per riqualificare soprattutto zone che già avevano un patrimonio naturalistico di rilievo, ma che nel tempo l'artificialità e i successivi interventi umani che hanno artificializzato le sponde avevano un po' penalizzato, ad esempio alcune lanchie. Molti di questi progetti, intanto bisogna ricordare che i progetti inizialmente erano 56, ubicati dal Piemonte fino al delta del Po, fra Veneto ed Emilia, Romagna e quindi si era proprio pensato di andare a ripristinare, a riprendere, a riqualificare zone che avevano già un patrimonio naturalistico riconosciuto. Come vi dicevo, 56 progetti che furono poi accolti dal Ministero di Transizione e che presentato poi all'Europa, l'Europa decise di finanziarci con quei 357 milioni di Euro. Purtroppo i tempi si sono dilungati, ci sono stati parecchi ostacoli, anche parecchie associazioni di categoria agricola che si sono anche contrapposti a quest'idea e la sensibilità che hanno avuto i nostri amministratori, i nostri politici nei confronti di queste azioni di contrasto hanno fatto slittare l'inizio dei lavori di progettualità di questi, tant'è che i costi sono aumentati e quindi adesso si dichiara l'Aipo che è stato incaricato dal Ministero di Transizione di gestire i progetti, quindi le ricerche e di conseguenza i progetti, ha deciso, ha capito che probabilmente non, almeno così ci è stato comunicato, non verranno realizzati tutti. Per adesso si partirà con i primi 5 e ci tengo a precisare che si tratta di alcune piccole aree, perché noi sappiamo che il Po scorre per più di 650 chilometri, ha un bacino idrografico di più di 70 mila chilometri quadrati e quindi quando noi sentiamo associazioni di categoria che denunciano che questi progetti comprometteranno la possibilità di coltivare la golena ci fa molto sorridere per non dire qualcosa di peggio, perché si tratta veramente di situazioni puntiformi che prevedono l'abbassamento dei pennelli che nel tempo si è visto che hanno arrecato più danni che vantaggi e quindi con l'abbassamento dei pennelli si riuscirà ad ottenere l'allagamento delle lanche che sono zone umide fondamentali per la conservazione della biodiversità. Per esempio nelle nostre zone cosa abbiamo a livello di pennelli? C'è qualche zona che verrà abbassata? Sì, c'è una zona fra i comuni di Motta, Baluffi e Torricella del Pizzo e sul fronte di Sponda Emiliana Roccabianca in quel comprensorio lì, c'è quell'altra invece verso il Casalasco e questi pennelli abbassati consentiranno a una situazione di regime non di estrema piena ma di media portata di riportare l'acqua in queste lanche e quindi renderle vitali. Nel tempo queste si erano asciugate e a volte in certe stagioni particolarmente siccitose non ricevevano più acqua. E quindi si ricreerà tutto quell'habitat? Esatto, si ricreerà quell'habitat di zona umida fondamentale perché bisogna ricordare perché a volte le zone umide vengono considerate ancora zone poco salubri, invece le zone umide hanno una gran capacità di sequestrare molta anidride carbonica, forse più dei boschi e poi danno la possibilità di vita ad una variegata, ad un elevatissimo numero di specie vegetali ed animali, quindi sono veramente dei concentrati di biodiversità fondamentali. Poi ci saranno anche alcuni interventi dove si andrà a riforestare alcune zone spondali, ma sarà importante anche valorizzare alcune zone che già si sono naturalizzate nel tempo e quindi perché a volte si pensa alla naturalità del fiume, all'ideale di naturalità del fiume solo con sponde forestate, ma il fiume conserva degli ambienti anche i cosiddetti spiagioni, i cosiddetti depositi di sabbia che creano delle situazioni di prateria arida con un innumerevole numero di specie vegetali che colonizzano queste aree e rendono questi ambienti unici nella loro caratteristica e quindi unici anche nella capacità di ospitare specie particolari molto molto interessanti. Noi abbiamo ad esempio sul Po la possibilità che nidifichino in queste aree ad esempio specie di rapaci che nidificano a terra come le albanelle minori, oppure come gli occhioni che sono dei caratteriformi, una sorta di limicolo che gradisce molto anche l'ambiente arido che trova in questi ambienti di vegetazione rada, di pianura, di piana con vegetazione appunto molto particolare l'unico luogo dove riesce a riprodursi e quindi questi sono veramente dei luoghi unici per la conservazione di questi elementi di biodiversità. Un'altra cosa che si può dire se ho il tempo che quando qualcuno grida alla compromissione della possibilità di continuare la pioppicoltura, io voglio invece risottolineare il fatto che si tratta di progetti tutto sommato nel complesso della Valle del Po puntiformi che devono rappresentare invece probabilmente un progetto di inizio. Noi speriamo che con queste progettualità poi si vedano in tempi più o meno brevi già i risultati positivi di conservazione che non sono stati degli errori ma che non hanno compromesso nulla per quanto riguarda anche l'economicità che si svolge nell'ambito fluviale e ripariale e che ci diano lo spunto per continuare in questa direzione. Grazie, allora abbiamo capito un po' di cose in più su questi progetti di rinaturazione del Po, sull'importanza del nostro fiume Po e del suo ecosistema. Per questa puntata di Gaia è tutto, vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima puntata. Grazie a tutti.